Questo è un video che io in realtà non volevo nemmeno fare perché pensavo non ce ne fosse bisogno, invece leggendo alcuni vostri commenti sui nostri canali social mi rendo conto che è necessario un chiarimento a riguardo. Matteo Salvini ad oggi rappresenta probabilmente il nemico numero uno della legalizzazione della cannabis in Italia e questo perché da vice premier si è schierato in maniera netta contro alle proposte di legge sulla legalizzazione. Allora indipendentemente dalla questione politica degli schieramenti noi siamo una rivista apolitica ma non potete supportare dolce vita, seguirci, condividere le nostre battaglie e contemporaneamente essere dei fan sfegatati di Matteo Salvini perché o una o l'altra cosa. Quindi fate pace col vostro cervello, mettetevi d'accordo e poi decidete da che parte stare.